Di nuovo grazie a tutti voi in Sightfest, un abbraccio a Simone che ci ha chiamati quest'anno, ci ha resi partecipi di questa bellissima serata, dopo di noi i Folkestone, mi raccomando un urgo per i Folkestone, la chitarra Mohammed Abdul, la batteria Winona Ryder, al basso Gatto Penceri 666, alla voce e al viola Mr. Baffo, e alla voce e allo splendore Pato Uoto Minimac, e alla console che il sergente sabbia, la loro Sil, buonanotte!